ciao a tutti oggi vorrei parlarvi invece che di logic o di garage band vorrei parlarvi di main stage main stage è il software della apple che utilizzo ormai da parecchi anni per la gestione dei dei miei live e personalmente ci piloto tre tastiere con una stabilità del computer eccellente vi faccio vedere un overview generale di quello che sono di quelli che sono i controlli principali e i parametri principali di main stage e poi vorrei addentrarmi in una situazione reale live dove vi faccio vedere quelle che sono un po le mie mie trucchetti per poter suonare dal vivo guardando il pubblico guardando nel mio caso le mie tastiere senza metter mai mano al computer innanzitutto main stage si trova nell'apple store quindi lo potete comprare esattamente come logic da apple store una volta che lo aprite potete vedere subito da progetto nuovo che avete vari template potete controllare delle tastiere potete controllare delle pedaliere di chitarra potete farvi i vostri pattern di batteria oppure effettistica per voce più backing track anche configurare dei mixer adesso per questo per questo video vi faccio vedere cosa si può fare ad esempio per le tastiere si possono abilitare dei controller e vedete che qua c'è una una canzone dove è stato assegnato soltanto un pianoforte io posso immaginiamo che questa è una canzone classica adesso vado a creare una nuova patch in min stage le canzoni si chiamano patch e qua vado a assegnarli un nuovo suono alla mia tastiera creo la patch e qua li vado a dire ad esempio voglio un s2 con questo suono qua un fmpicked ed ecco che adesso alla mia tastiera è stato assegnato un suono da instrument 2 qui vado anche a dire un nuovo colore e il pianoforte che in realtà adesso è stato messo a livello di prima canzone non mi interessa più mi interessa soltanto il mio suono 2 questo è diciamo l'abc l'abc significa che io posso configurarmi un suono per ogni canzone ad esempio oppure un effetto di pedaliera per ogni canzone oppure un multiplo effetto per ogni canzone guardate un po' io qua ho la mia pedaliera di chitarra io sono un bassista ed ecco che qua ad ogni canzone avrò effettistiche diverse come potete vedere qua quello che è l'interfaccia di main stage è praticamente quella delle channel slip di logic bisogna solo imparare dei termini nuovi che sono quelli del concerto della patch e dei set abbiamo tre viste layout dove io vado letteralmente a disegnarmi quello che è la mia interfaccia ad esempio io qua posso andare a cambiare questa manopola qua adesso qua è bloccato e dirgli non voglio questo ma voglio questa manopolina qui me la metti qua andiamo a farne uno vuoto che facciamo tutto prima facciamo un quick start di keyboard immaginiamo che abbiamo una mini tastiera da 25 tasti ad esempio vado qui nella mia modalità layout con più talento oggi sente il tempo modalità layout seleziono la mia tastiera invece che 76 tasti li dirò guarda che io ne ho 25 ecco che me l'ha disegnata più piccola voglio soltanto tre di queste non ho questo tipo di pedale quindi per favore fammelo sparire non ho lo smart control e non lo voglio ma ho dei run pad i run pad ad esempio ne ho un bel po' ad esempio ne ho 12 mettimeli qua rimpicciolisci meli e questo lo faccio come voglio io nel senso proprio drag and drop lasciano il corner e magari i bottoni non li voglio gialli ma li voglio rossi ed ecco che poi andando sotto edit mi troverò proprio quello che ho disegnato e sotto perform avrò proprio una situazione di questo tipo che è visivamente comoda entro nel merito di quello che è il mio setup mi setup che ci ho lavorato un po' di tempo insomma c'è una cosa a cui ho lavorato diversi diversi anni sempre perfezionandolo il mio setup adesso vi faccio vedere quello di una cover band ma in realtà questo setup è identico per tutti i miei progetti perché basta che ci cambia il nome della band e basta che ci cambia il nome delle patch ovvero delle canzoni che uso dal vivo ed ecco che come vedete sta caricando anche software di talze parti in questo caso il pianoforte di alicia case che si trova sotto sotto contact che è un pianoforte che io adoro e quindi dal vivo quello è il mio pianoforte adesso vedrete che mi carica tutto un bordello di patch ci sono delle cose che non neanche più ed ecco questo questo è il mio progetto dal vivo dove ho configurato le tastiere le tastiere adesso vi faccio vedere sono queste qua sono tre tastiere che utilizzo dal vivo e mi permettono di fare dei live qua ho la campanina di forte dei malmi di fare dei live con una configurazione molto molto esuberante nel senso che ho dei supporti che comunque si muovono una tastiera che rota una tastiera che bascula come potete vedere e non guardare mai il computer quindi fare proprio letteralmente l'asino dal vivo qua ero in piazza a Sputorno mi si era sganciato il supporto suonato per terra praticamente questo è il mio setup in casa mentre lo sto configurando quindi ho un micro Korg ho una O1 una Korg Karma che però sono mute come vedete c'è soltanto il cavo MIDI collegato e anche qua sto facendo l'asino e mi permettono ecco qua eccomi qua in casa mentre lo configuro mi permettono con un semplice rack dove c'ho alla fine soltanto un interfaccia audio un mixer un interfaccia MIDI di qua sempre alla stessa configurazione con una tastiera che invece che basculare si solleva con un pedale ecco che mi permette di fare un'esibizione dal vivo dicevo con con un'impronta live e non da studio e registrazione come ho fatto qua mi sono disegnato le mie tre tastiere assegnando ad ognuno di loro fisicamente la mia tastiera ad esempio questa è una Korg One che ho chiamato Isteria questa è la mia Karma questo è il mio micro Korg e come vedete le ho disegnate come volevo io a livello di manopole nel layout ho messo il pedale che ho il pedale del sustain l'ho assegnato a una tastiera l'ho assegnate poi a tutte e tre le tastiere allo stesso pedale mi sono disegnato un volume dei livelli il metronomo il click la patch name e qua mi sono fatto addirittura un blank cioè uno spazio vuoto dove io vado a a mettere le immagini che mi interessano e nel mio caso le immagini che mi interessano sono gli accordi perché io ho pessima memoria ed ecco che ad ogni canzone quindi vedrò gli accordi che mi interessano quindi io dal vivo sono in questa situazione con dei pulsanti che ho assegnato muovo fisicamente le mie le mie patch adesso mi si è inchiodato qualcosa bloccati ecco e vedete che a ogni patch sono assegnati dei suoni diversi e addirittura faccio anche delle situazioni un po' più particolari dove splitto a più suoni ogni singola tastiera guardate questa situazione qua ad esempio ecco qua ad esempio questa è una classica dove c'ho sotto uno strumento qua ne ho altri due in layer quindi molti suoni molti molte molte una configurazione molto molto importante insomma e cosa si può fare si può assegnare a delle manopole a delle manopole anche ciò che voglio quindi ad esempio se vado in wake me up del compianto avc qua ho assegnato un filtro a una manopola e di conseguenza quando suono dal vivo io con quel filtro lì aziono il il cutoff guardate qua mi sono segnato anche addirittura le note se io dal vivo devo fare l'asino e non pensare a a quello che insomma è il progetto è il progetto che invece ho concepito a tavolino nel a casa come vi dicevo ci sono delle patch quindi ogni canzone è una patch ci sono situazioni dove io ho bisogno adesso non è il caso di questa cover band però ho bisogno magari di avere ancora più suoni rispetto a quelli che che ci sono per ogni canzone perché magari ho che ne so sto suonando in green theater ho bisogno di alla modi roots di di avere suoni diversi per l'incro suoni diversi per la stoffa suoni diversi per il ritornello allora vado a assegnare questi suoni qua ad un set quindi cosa succede se io a livello di set vado a metterci ad esempio un suono di un suono verde lo troverò sempre in tutti come vedete e stessa cosa vale per il disco ancora più a monte per il concerto qualsiasi cosa che io faccio a livello di concerto a modi diciamo imbuto lo avrò poi dappertutto quindi se ad esempio io qua creo una claccia audio a livello di concerto che chiamo creiamo qua c'è il warning mi dice guarda che lo stai facendo a a livello di concerto ecco che avrò creato questa claccia audio 7 che adesso io vado a chiamare marco la mia claccia audio 7 sicuramente visto che l'ho fatta a livello di concerto me la troverò anche in tutte le mie tracce eccola qua in tutti i miei canali in tutte le mie patch e anche in tutti i miei set ovviamente eccola qua quindi in questo modo qua a livello di concerto ad esempio cosa vado a impostare vado a impostare il click per il batterista le uscite ausiliari e gli effetti che mi servono per tutto il live e avendo poi un'interfaccia audio nel mio caso a 8 uscite posso gestire separatamente che ne so le eventuali basi o voci effettistica e come vedete un progetto importante posso potrei disegnarlo anche in altri modi cioè io posso dire no questo non mi piace non lo voglio e gli smart control me li metti qua grossi andiamo un po' me li metti qua grosso veramente disegno tutto come voglio io eccolo qua a livello di concerto addirittura vado a sceglierci il layout che mi piace di più mi piace mi piace di più questo electric piano 12 ad esempio lo voglio così e poi me lo vado a mappare per singolo elemento tipo canso in sofia io voglio che qua sto andando assolutamente a caso nel pianoforte a un certo punto qua mi mappo il pan ecco qua e l'ho mappato quindi quando io sono e qua invece in questa manopola qua io voglio ad esempio che non so neanche più cosa sto instrument 138 ah vabbè mettiamo l'organo mi si alza questa roba specifica e l'ho mappato se vado in performance adesso io vedo soltanto quelle due mappature attive eccole qua e se vado poi a vedere effettivamente cos'è che fanno queste due mappature che ho assegnato alle mie tastiere se io muovo questa sicuramente dovrò vedere nel pianoforte che si muove il pan eccolo qua vedete che si è mosso e vale la stessa cosa per il per il vintage bitlay organ che io adesso ho assegnato a a che instrument era era l'instrument 138 che è questo qua vado a aprirmi il mio vintage bitlay eccolo qua se io vado a muovere questa manopola qua ecco che si muove questo immaginate che tutto questo ovviamente avviene dal vivo quindi per intenderci è una situazione di questo tipo dove io sto suonando veramente dal vivo questa è una band è una band che non esiste più eccomi qua ho compito qua di lato che non guardo e sto muovendo delle manopole quindi questa è vuole essere soltanto un overview ovviamente di tutto quello che potete fare ma potete fare tantissime cose c'è la gestione anche del playback che in logic non c'è c'è proprio un virtual apposta per il playback ecco qua c'è una loop station e c'è un rapporto qualità prezzo a mio avviso ineguagliabile perché comunque vi permette di avere tutte le librerie di logic tutto guardate quante cose ci sono adesso qua ho installato tutto però come potete vedere è tutta la roba di logic vediamo se mi manca qua qualcosa ma non mi sembra cos'è che vuoi che cos'è che manca qui che lo metto subito download all available sound vediamo se se manca qualcosa vabbè lo faccio dopo e e come vi dicevo un rapporto qualità prezzo altissimo è stabile non ho mai avuto problemi di performance nonostante come sentite l'avvento nel mio computer non sia proprio l'ultimissimo modello e è molto intuitivo nel senso ha sicuramente molte molte meno pagine di istruzione ad esempio rispetto a logic cioè se devo fare una proporzione siamo sul 15% il 20% io addirittura comprai logic 9 perché mi serviva main stage poi dopo mi sono appassionato con logic però prima main stage era solo disponibile comprando il pacchetto logic studio quindi adesso invece main stage si può acquistare separatamente ad oggi vi dico subito quanto costa mi sembra che costi 30 dollari proprio 30 euro è pochissimo un rapporto qualità prezzo altissimo e vi consiglio di provarlo grazie per avermi ascoltato e auguro a tutti buona musica ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti